A Ravenna 2013 siamo con Sara Lunghi della cooperativa Impronte, piazza del popolo che come al solito si anima, diventa teatro e sede di cose molto interessanti. Raccontaci cosa fate e cosa farete in questi giorni. In questi giorni in collaborazione con molti partner tra cui il multicentro CEAS, l'agenda 21 Ravenna, il liceo artistico Nervi Severini e l'accademia di belle arti facciamo delle iniziative dedicate ai bambini. In particolare dopo una breve introduzione ai temi della sostenibilità, delle parole chiave della manifestazione, quindi acqua, rifiuto e energia, i bambini si attivano in alcuni laboratori e fanno diverse attività con materiali di recupero per cui braccialetti, collane, quadri e altro da appendere o da portarsi a casa e a scuola. Siamo al sesto anno, un evento che si conferma nella qualità anche nella quantità se vogliamo. Esatto, ogni anno continuiamo ad avere delle adesioni, anche se sappiamo che la situazione della scuola è sempre peggiora dal punto di vista sia dell'organizzazione che delle uscite, però abbiamo sempre degli scontri positivi, gli insegnanti sono contenti, i bambini si divertono, quindi diciamo che speriamo di fare sempre del nostro meglio. Grazie Sara, buon divertimento. Grazie anche a voi, un buon proseguimento. Grazie, ciao. Ciao.